Anelli, bracciali, spille, collane ed antiche monete, frutto di due diverse truffe consumate ad Aosta e a Pavia, ai danni di un'anziana signora e una coppia di coniugi di 87 ed 80 anni. A recuperare i monili in oro e il denaro contante la polizia di stato di Arezzo, che in entrambi i casi ha intercettato i truffatori lungo l'autostrada del Sole. Sono stati così denunciati due uomini e recuperato il bottino dalla valore di circa 30.000 euro che è stato restituito alle anziane vittime. Si tratta purtroppo di un fenomeno sempre più diffuso, colpi messi a segno seguendo un collaudato stratagemma. Una telefonata con la minaccia che i figli degli anziani sarebbero finiti in galera se non fosse stata pagata una certa somma di denaro ad una persona che si sarebbe presentata di lì a poco per riscuoterla. E il danno, quello vero, spiega la questura in una nota, non è solamente legato alla cifra sborsata ma si annida poi nelle menti delle vittime, che non solo vengono derubate dai ricordi di una vita ma finiscono per perdere la stima in se stesse. La polizia di stato con la sua campagna esserci sempre ribadisce dunque che nessuno è lasciato mai solo e che le istituzioni sono sempre pronte ad aiutare chi, soprattutto i più fragili, abbia bisogno anche di un semplice consiglio su come comportarsi di fronte a soggetti sconosciuti che fanno strane richieste di persona o per telefono. Questo semplicemente chiamando il numero di emergenza 112 o per i più social attraverso il sito www.poliziadistato.it dove è pubblicato un vero e proprio vademecum.